Tra pochi minuti andiamo con l'estrazione e vai con la musica. In una giornata di festa c'è anche chi lavora. Quanti biglietti ha venduto oggi? Fino adesso 88 su 100 cartelle prese. E da stamattina che gira? No, dalle 5 di pomeriggio. Lei stasera è in piazza per tentare la fortuna oppure solo per fare un giro, vedere la tombola? No, no. Facevo un giro però dai proviamoci, proviamoci. Vuoi vedere? Non si sa mai. Magari sai, è la serata giusta. Sto proprio acquistando in questo momento due biglietti della tombola. Sì perché voglio vincere. È la prima volta che partecipa alla tombola? No, no, sempre. Sono sempre qua. Lei vedo che ha un biglietto, anzi due, due in mano. Una con due, vedere se si riesce a vincere qualcosa. Però anche il divertimento di stare, in più si fa l'offerta anche per i frati di San Paterniano. Avete appena acquistato dei biglietti, quanti sono innanzitutto? Eh, per adesso quattro. Forse ne prenderemo altri, perché ci piace giocare. Stasera volete proprio vincere? Delle volte capita la fortuna. Spariamo di vincere, mi auguro di portare qualcosa a casa, ecco. Ogni anno vengo qui, quindi oramai sono 27 anni che concorro. E stasera è in piazza esclusivamente per la tombola? Certo, per la tombola, perché sono anni che venivamo sempre, anni che non vinciamo, perché non abbiamo mai vinto, però non demordiamo. Quanti biglietti hai acquistato stasera? Cinque. Quindi speriamo in questa serata splendida, bella calda. Dopo tre anni torna la tombola di San Paterniano, un ritorno per la gente, una tradizione a cui non si poteva mancare. Sì, infatti è una cosa che tutti i fanesi apprezzavano ogni anno, purtroppo è stata interrotta per questi tre anni e adesso finalmente siamo riusciti a rimetterla in piedi. Non è stato facile perché chiaramente ci siamo purtroppo mossi con tempi molto brevi, però alla fine siamo riusciti a fare un'ottima collaborazione anche con le associazioni di categoria e questo ci ha permesso di rimetterla in piedi. Chiaramente quest'anno abbiamo un attimino dovuto rinunciare al tabellone classico, quello con i tasselli, però abbiamo mantenuto l'urne e tutto quanto. Il prossimo anno magari riusciremo a ripristinare, come la vecchia tradizione, il tabellone che abbiamo sempre utilizzato, però abbiamo visto che c'è un'ottima partecipazione e quindi speriamo abbastanza bene. Ecco, fra l'altro stasera ci sono anche tanti turisti in piazza. Sì, infatti devo dire la verità, ci sono molti turisti, a pari che oggi è festa e quindi abbiamo anche la fortuna di avere molti negozi aperti e quindi questo ha permesso anche al turista di poter camminare per la città di Fano e quindi di essere partecipi a questo evento. Quindi dai, siamo tutti abbastanza contenti. Stasera vogliamo sentire piazza 20 settembre urlarlo forte, perché Claudio altrimenti sennò poi non gira bene, perché per chi è turista, puscina, si intende dire mescola, mescola il tonpoliero. Allora, lo vogliamo sentire un bel forte puscina? Uno, due, tre... Puscina! Stasera è stato letteralmente baciato dalla fortuna? Assolutamente sì, come se inizia Rimini sono un bel busone. Sicuramente anche l'anno prossimo tornerà la tombola di San Paterniano? Eh, mi tocca, assolutamente sì. Torneremo per restituire un po' di soldi, dai. Allora ci vediamo l'anno prossimo. Assolutamente sì, salve e buona santa.